Bravi, bravi, bravi Uccano! Vi abbiamo visto molto attivi in difesa, sei stato molto bravo. Cosa ci racconti di questa partita? Eravamo un po' nel pallone in difesa. E dobbiamo stare... Un po' di cavolate. Un attimo, un attimo, la regia mi dice che non funziona bene, ripeti. Abbiamo fatto un po' di cavolate invece in difesa. Non è vero. Soprattutto nel secondo tempo. Nel secondo tempo è liscio. Secondo tempo. Nel primo tempo l'ha giocato bene tu in difesa, molto bene. Mi è piaciuto. Eccalo al buio! E' vero, è vero. L'altra squadra come si è comportata? Bene, bene. Bene, hanno giocato bene. Siamo primi? Siamo primi? Siamo primi. E non mi far uscire le parole.